eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video di news o meglio un video di analisi dove parleremo insieme del mercato nero di call of duty black ops 3 come sempre prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel mi piace ed un commento per supportare video e canale youtube e se siete nuovi correte subito ad iscrivervi perché ho utilizzato questo titolo molto forte questa mattina perché ieri dopo l'uscita del mio video abbiamo veramente parlato di tutto e di più nei commenti sotto il video e vi ho visto veramente molto arrabbiati per questa novità del pacchetto 3 in 1 come era facilmente prevedibile ma io vorrei fare un attimo una panoramica generale di tutto quello che è accaduto dall'introduzione del mercato nero per arrivare ad un punto predefinito così poi mi fate sapere anche la vostra idea come sappiamo il mercato nero è arrivato a sorpresa nel multiplayer di call of duty advanced warfare inizialmente si era parlato sempre di introduzioni come personalizzazione del personaggio tutte exo diverse e via dicendo poi sono arrivate queste armi che hanno fatto veramente saltare il banco perché tutti volevano trovare assolutamente delle nuove armi all'interno del multiplayer di call of duty advanced warfare la sledgehammer games utilizzò diverse tipologie per poterci dare le armi all'interno del mercato nero innanzitutto se ben vi ricordate ogni tot partite ci dava un lancio di rifornimento poi se non ricordo male ad ogni prestigio ogni tot livelli ci veniva dato un altro lancio di rifornimento da aprire e poi con l'introduzione dei livelli master quindi del grand master prestige dei prestigi oro si sbloccava un'arma elite quindi una delle armi più forti del mercato nero ad ogni livello oro quindi sinceramente a grandi linee io su call of duty advanced warfare l'avevo trovate praticamente tutte anche la k12 rip e via dicendo quindi mi potevo ritenere abbastanza soddisfatto su black ops 3 invece praticamente non ho trovato un emerita ceppa o l'ascia il malice e il banshee che ho trovato veramente così a rotto di fortuna per non parlare altro perché qualche cosa veramente di assurdo e la cosa che mi sta facendo veramente imbestialire ultimamente ma ve l'avevo già detto perché avevo fatto un video che se non avete visto si intitolava le armi di black ops 3 del mercato nero sono le più forti ho notato che con gli ultimi update con gli ultimi aggiornamenti e patch del gioco stanno diventando più forti le armi all'interno del mercato nero che le armi standard avete visto come nuovamente è stata ridepotenziata il vesper che era stato magicamente riportato quasi agli albori del tempo qui all'interno di black ops 3 nonostante ci ho giocato sia su pc che su ps4 non ho trovato un emerita ceppa a parte quelle tre armi di cui vi ho parlato non ci ho mai buttato un soldo e tanti mi diranno amante vabbè ma tu c'è un lavoro c'è uno stipendio buttaceli in pote no perché sinceramente ragazzi vado a lavorare 8 9 ore al giorno la sera mi metto a giocare a preparare i video con voi quando praticamente non devo uscire perché devo buttare i soldi del mio stipendio per avere un'arma più forte delle altre o quant'altro però la cosa mi fa veramente imbestialire perché tanta gente come me che ha ore giorni settimane mesi su questi giochi ha veramente pochissime armi rispetto a coloro che praticamente vanno a comprarsi i pacchetti e l'ultima dimostrazione è il 3 in 1 questo nuovo pacchetto veramente assurdo al costo di 2500 code point quindi veramente tantissimo e 500 cripto chiavi che per chi gioca al multiplayer di black ops 3 veramente tanto tempo sa quante ore di gioco ci vogliono per fare 500 cripto chiavi questo pacchetto per coloro che si sono persi il video di ieri introduce una mazzetta per le armi a fuoco quindi troveremo un'arma a fuoco una mazzetta per le armi da mischia quindi troveremo un'arma corpo a corpo e 10 lanci di rifornimenti rari al qui interno potremo sempre trovare un'arma alcuni di voi ma più che altro mi stavo confrontando anche con tanti ragazzi con cui giocavo ieri pomeriggio mi hanno detto che hanno aperto qualcuno di questi pacchetti 3 in 1 e la cosa bella è che hanno trovato delle armi che purtroppo non sono le ultime uscite tipo chi voleva il peacekeeper pacere non l'ha trovato c'è stato chi ha trovato le marshall chi ha trovato il malice come come me chi ha trovato l'ascia chi ha trovato lo school splitter e via dicendo quindi sinceramente ieri tutti i ragazzi con cui stavo giocando ieri principalmente qualche mio amico con cui gioco più spesso a code non aveva trovato praticamente nulla delle armi nuove tipo ar 70 ajax o addirittura il peacekeeper questo non l'hanno praticamente trovato la mia domanda è inizialmente mi ricordo nei primi mesi su call of duty black ops 3 venivano messe più di qualche volta ogni fine settimana le cripto chiavi doppie perché non rimettono le cripto chiavi doppie cioè con le cripto chiavi doppie ci mettiamo un attimo a fa 500 cripto chiavi per aprire un po di pacchetti 3 in 1 più che altro 3 in 1 dura solamente tre giorni e scade oggi o domani se non sbaglio quindi ci dovevamo mettere già da parte tutte queste cripto chiavi perché in tre giorni è praticamente impossibile fa 500 cripto chiavi cioè bisogna giocarci veramente tantissimo soprattutto se non ci sono quelle doppie e quindi con l'arrivo di questo pacchetto 3 in 1 con i commenti che ho letto ieri con le riflessioni che ho fatto ieri pomeriggio mentre ho giocato al multiplayer di black ops 3 ho detto ragazzi veramente addio mercato nero cioè a me praticamente non mi vedrà più o quei mille code point che praticamente mi hanno dato per il preorder di call of duty infinite warfare e qualche cripto chiave utilizzo quello ma io sinceramente mi tengo le armi standard come ho sempre fatto banshee che ho sbloccato la malice e lascia sinceramente sto mercato nero a me ha rotto le scatole e spero che su call of duty infinite warfare come si vocifera ci siano le varianti delle armi non ci sia l'ennesimo mercato nero che tramite il quale dovremmo passare per poterle provare tutte quante qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate e lanciamo questo hashtag addio mercato nero per fare in modo che si capisca che ci stiamo veramente stancando di questo black market e noi ci vediamo con tanti nuovi video se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale